Se noi andiamo a prendere come esempio il 2015 vediamo che su 16.000 occupati abbiamo circa 380 infortuni per cui se noi rapportiamo questi due dati vediamo che è un dato abbastanza tranquillo. Proiettando questa stima sul 2017 si può dire che l'andamento, il trend è abbastanza in flessione per quanto riguarda gli infortuni nel manufatturiero. L'unica cosa che volevo rimarcare è che per quanto riguarda le filature a Cardato c'è stata una ripresa degli infortuni anche gravi negli ultimi anni.